24, 24, 36 e la metà di 12 e la durata di ogni battuta se fai la somma è sempre la stessa spiegaci cosa state facendo, cosa sta facendo il vostro gruppo il progetto lo sa lui, lo definitivo diciamo allora, stiamo facendo un piccolo dispositivo che servirà per tenere sotto controllo i relatori al prossimo dogbot che avranno a disposizione 20 minuti per la loro presentazione e questo dispositivo tenterà di disturbarli ovvero aiutarli per tenersi dentro questi 20 minuti per cui il leddino verde sarà acceso per i primi 15 minuti il leddino giallo si accenderà durante gli ultimi 5 minuti della presentazione e durante gli ultimi minuti si accenderà il led rosso al quale attaccheremo anche il nostro buzzino sul quale faremo suonare una fantastica melodia composta da Giovanni inoltre ci sarà anche un altro dispositivo collegato al nostro dogbot countdown che sarà questo servo che visualizzerà con una lancetta il tempo rimanente per la presentazione a tutti si non avrei potuto dire di nuovo grazie 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 grazie